Ciao a tutti, io sono veramente contenta che in questi anni mi avete seguito su YouTube, vi siete trovate molto bene con i miei video e il mio YouTube non finirà, rimarrò sempre su YouTube, però YouTube vengo una volta a settimana, una volta ogni due settimane quando riesco ad uploadare. Però adesso se volete avermi tutti i giorni come personal trainer dove ti dico quello che devi fare se sei principiante, se sei intermedio, se sei avanzato e con un approccio multidisciplinare, adesso mi potete trovare su now.gillcooper.it dove potete trovare questa piattaforma che è una vera e propria palestra online dove vi do consigli sull'alimentazione, consigli sul pensiero positivo, consigli per l'autostima, consigli per l'allenamento e tutti i giorni consigli di quello che devi fare, così diventa davvero il tuo personal trainer in tutto e per tutto, tutti i giorni con tanti tanti video, nuovi video ogni 10 giorni, così se volete venire e avermi tutti i giorni tutto per te, venite su now.gillcooper.it Ciao amiche di now, adesso facciamo un high intensity interval training per easy, per i nostri giubilanti. Allora, faremo come veri guerriere, però con un po' di modifiche, dovete ridurre l'intensità, ridurre il raggio di movimento, ok? Noi faremo due serie di 5 esercizi e questi esercizi saranno 30 secondi e 30 secondi, così 30 secondi attivi e 30 secondi di recupero. In questi 30 secondi attivi, dosati, non devi esagerare, ok? Devi dare tanto di te stesso ma senza esagerare e durante i 30 secondi noi possiamo recuperare tranquillamente. Allora, abbiamo 10 secondi, cominceremo con la nostra prima cosa che è un jump squat 180, che vuol dire io comincio ad andare avanti, lato, avanti e lato, passando da un 180 al lato. Siamo pronti? Ok, cominciamo così e vado, vado, vado e vado. Piccolini, piccolo, piccolo, piccolo e piccolo. Non dovete neanche esagerare, non andare troppo in basso. Giro, giro, vado, 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 vado e torno. Ancora, vado, 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 vai. Piccolo, piccolo. Questa è già parte del nostro riscaldamento, ok? Piccoli movimenti, ci abbiamo quasi finito. Ok, 30 secondi, ricupriamo. Respiri e recuperi, respiri e recuperi. Ok, ripeto, questo è un easy, un high intensity interval training, easy, però per una persona non allenata ti garantisco tante calorie bruciate, ok? La prossima sarà un paddle jump, ok? Un paddle jump vuol dire che saltiamo da una parte all'altro, ok? Proprio una parte dall'altro, come se stessimo provando di superare una pozzanguera. 3, 2, ok. Salto e salto. Ok? E spingi proprio su la punta del piede, punta del piede. Vado e vado, e vado, vado. Destra e sinistra. 30 secondi, piccolo salto, piccolo salto. Ok, questo è eccellente come allenamento per aiutare a spingere sul nostro riflesso pantale, per aiutarci proprio a drenare le gambe, disintossicare, ok? 3 secondi. Occhio. Ok, di nuovo. Muoviti. Ricupero. 30 secondi di recupero. Dai ragazzi. Muovetevi anche le braccia, muovetevi anche le braccia. Lanti indietro. 30 secondi di recupero. Proprio recuperare tutte le forze. Ancora 13 secondi, ok? 13 secondi. dopodiché faremo un inner thigh jumping jack. Che vuol dire che la apro e chiuso incrociato. Apro e chiuso incrociato. Ok, andiamo. Giù. E due. Su, su, giù. Su, su, giù. Su, su, scendo. Up, up, giù. Su, su, giù. Vado, vado, torno. Vado, vado, torno. Ci siamo. Scendo. 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 Ancora. 5 secondi. Ci siamo. Ancora 2 secondi. Ok. Bravi ragazzi. Eccellente. Ok, andiamo giù. La nostra ultima sarà proprio una mountain mountain climber. Ok? Mountain climber quando mi scendo giù e porto la ginocchia in avanti come se stessi provando di toccare il mio petto con la ginocchia. Ok? Così ci siamo quasi. 10 secondi. Bello e tranquillo. Anche, ripeto, potete sempre cambiare come meglio credi. Ok? Ci siamo. Ok. Vado. Tiri sulle ginocchia. Tiri sulle ginocchia. Vai, vai, vai. E 30 secondi. Puoi anche fare lentamente. Se diventa troppo difficile a correre velocemente. Abdominali rimangono tesi. Tira, tira. Ok? 15 secondi. Tira su. Ultimate 15 secondi. Spingi su le braccia. Abdominali rimangono tesi. Dai, dai, dai ragazzi. Dai, dai, dai. Continuate. Bravi. Bravi. Ok. E step touch ancora. Step touch. Bravi, bravi, bravi. Ancora. Continuiamo. Respiro, respiro. E dopodiché andremo a fare un bello sumo squat. Ok? Io adoro il sumo squat che è eccellente per le nostre interne cosce. Ok? Ripeto. Trovi la tua misura. Questo è un hit fatto per i principianti. Un po' più tranquillo. Un po' più a portata di tutti, ma sempre. Ok. Sumo squat. Andiamo. Scendiamo. Dai, dai, dai. Vado, vado. Ok? Se non vuoi saltare, basta che premi verso basso. Le ginocchia seguono proprio la punta dei piedi. Ok? Continui, continui. Vai, vai, vai. Così. Spingo anche. Piccola salta. Ci mancano 12 secondi. E dopodiché torneremo al nostro proprio primo 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 allenamento, al nostro jump squat, perché abbiamo già finito i nostri primi cinque esercizi. Ok. Il primo circuito è andato. Ok? Cinque minuti di lavoro e adesso dobbiamo fare ancora cinque minuti di lavoro. Ok? Partendo esattamente come abbiamo fatto prima, il nostro squat proprio girando ogni volta che facciamo un salto. Però adesso proviamo di aumentare poco poco l'intensità. 30 secondi. Puoi anche aspettare la quindicesima seconda per darci dentro, come dico io. Ma giudichi tu. Ok? Siamo giù. Pronti? Andiamo. Giro. Piccolo giro. Piccolo giro. Ok? E sto lavorando sui taloni, ragazzi. Taloni e taloni. Giro. Respira. Ancora. Giro, giro. Vai, vai. 15 secondi ci rimancano. 15 secondi. Continuate. Vai. Giù. Giù. Giro. Giro. Spingo sui taloni. Aiuto il gluteo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. And 30. Ok. Di nuovo siamo su la fase discendente del nostro elemento. Abbiamo già fatto il primo della seconda circuito. Ok? E diventa sempre più facile da qua. Ok. La prossima è una paddle jump che vuol dire saltiamo da una parte all'altra come se stessimo superando un pozzangolo magica. Ok? Ma lavorando su la parte plantare del piede. 3, 2, 1. Siamo pronti? E vado. E vado. E provi di non neanche sentire il tuo piede arrivare. Senti. Piano piano. Che questo vuol dire stai attivando più fibre muscolari per avere i tuoi risultati. continui. Vai. Vai. 14 secondi. 14 secondi. Continui così. Sopra e sopra. Questo aiuta tantissimo con il tono lempatico per questo mese delle desintossicazioni. Aiutiamo proprio a recuperare il tutto. Ok. Bravi ragazzi. Respiro. Respiro. Perché abbiamo il nostro jumping jack. È una sorta di incrocio con uno squat. Ok? Incrociamo e scendiamo in due tempi. Ok? Continuate. Voi continuate a marciare. Incrocio. Scendo. Incrocio. E scendo. Ok? Ancora. Quattro. E tre. E due. E uno. Ok. Accrocio. Scendo. Accrocio. Scendo. Fino al talone. Fino al talone. Ok? Su. Su. Giù. Su. Su. Giù. Dai. Il nostro heat per i nostri amici che sono le prime armi. E vedrai che comunque è bello intenso. Anche come heat easy. Ok? Proprio avere un nuovo, no? Continuiamo. Su. Su. Un bello soft. Ancora. Continuate. Ok. Ricupero. Dai. Ci mancano soltanto due esercizi ragazzi. Eccellente. Continuiamo a fare così. Proprio per avere i nostri risultati. La prossima è un mountain climber. Ok? Così ci mettiamo giù a terra in preparazione. Porteremo le ginocchia verso il nostro petto. Può essere velocemente. Può essere non velocemente. Tenete gli addominali belli tesi. Sollevamoci. Ok? E porta le ginocchia in avanti. Così. Continuate. Vai. Vai. Ok. O di corsa o con calma. Ok? Questo decidi tu. Ok? Su e su. Addominali tesi. Sempre 21 secondi. Tira e tira. 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 Vai e vai. Continuate. Dai. 14-13 secondi ci rimangono. Respirate. Continuate. Un bel allenamento soft. Per i nostri amici. Super easy. And relax. Piano piano su. Step touch. 30 secondi di recupero. Ultimo esercizio per l'interno coscia. Divaricheremo le nostre ginocchia. Divaricheremo i nostri piedi. Potete decidere voi se volete farlo in modo di triometria saltando o no. Dipende. Ma sono 30 secondi. Ok? Ci mancano 7 secondi di recupero. Divarichiamo. Cominciamo a prepararci. Va? Ci cominciamo a preparare. Questo è il nostro ultimo esercizio insieme. Dai. Piccoli. Ok? Puoi saltare come non puoi saltare. Anche ricordate che questo allenamento potrebbe essere fatto sul trampolino. Ok? Tranquillamente. Se avete il trampolino, lo potete fare anche sul trampolino. Continuiamo. Dai. Ottimo. 15 secondi. Dai. Spingi. Questa è l'ultima. Fino alla fine. Fino alla fine. Fino alla fine. State facendo un lavoro meraviglioso. Continuate. Dai. 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 Ci mancherà soltanto 4 secondi. E là. Sarà finito il nostro allenamento. Ecco. Eccellente. Ah ragazzi. Che bello. È bellissimo lavorare con voi. È bellissimo vedere i vostri risultati. È bellissimo anche rispondere a tutte le vostre domande. Ricordate che qui su Now proviamo a starvi sempre a presto con nuovi consigli, nuove idee, nuovi allenamenti. E spero che passate una giornata splendida di allenamento e non anche di un pizzico di relax. Un bacio dalle G e vi aspetto alla prossima.